Quando sono nato avevo circa 30 anni, l'età di mia madre. Il mio lavoro è quello di frequentare poeti. In pratica non lavoro, perché non credo al concetto dell'ereditarietà della colpa. Credo semmai all'eredità di mio padre. Come avrete capito ho una madre, un fratello e anche un padre. E' un cagnolino che si chiama Toby. Ho una malattia molto grave, sono affetto da dissolvenze incrociate. E soffro di astigmatismo. Astigmatismo. Non credo in Dio, perché neanche Dio crede in se stesso. Dio è ateo. Il primo ricordo della mia infanzia è mia madre che piange. Allora compresi che il mio Dio poteva morire. Credo che nell'infinito universo siamo tutti soli. Anche gli extraterrestri sono soli. Fra un secondo avrò mille anni. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti.